Presentati lo scorso 12 ottobre in occasione dell'open day svoltosi nel cortile del complesso dell'Annunziata, prendono il via i corsi dell'ITS Academy Turismo e Cultura ad annunciarlo il comune di Sulmona in qualità di socio della fondazione insieme al consorzio di Emsitere d'Amore in Abruzzo. Ai corsi parteciperanno 20 ragazzi provenienti da Valle Peligna, Valle del Sagittario e Alto Sangro. I corsi di formazione svolgeranno da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 nella serie del liceo artistico Mazzara di Sulmona. avranno una durata di 1.800 ore, di cui 800 ritirocini in azienda, stage all'estero, certificazione in lingua. Come aveva spiegato il responsabile dell'Accademia, Ciro Nardinocchi, davanti ai ragazzi delle classi quinti delle scuole superiori. Studenti nell'ultimo anno le presi con la decisione se continuare a studiare e mettersi nel mondo del lavoro e quali l'Accademia offre una possibilità in più, quella di seguire un percorso di formazione gratuito, studiando materie oggetto dei normali programmi didattici, ma con un'attenzione particolare alle lingue straniere, all'informatica, al marketing digitale, conoscenze fondamentali per vendere il proprio prodotto, anche quello turistico nel quale l'80% dei ragazzi usciti dall'Academy hanno trovato un'opportunità occupazionale.